Buon salve e benvenuti al riassunto dello Star Citizen Live del 22 maggio, dedicato alle navi. Iniziamo subito. Hanno parlato un po' dei miglioramenti agli scudi su cui stanno lavorando. Non dovrebbe cambiare molto a livello di funzionalità, ma risolverà una volta per tutte il problema degli shield holes, oltre a avere probabilmente degli miglioramenti al lato tecnico e forse anche prestazionale. Per quanto riguarda gli effetti visivi, hanno ancora del lavoro da fare ed è uno dei motivi per cui è stato rimandato. Stanno lavorando ai vari sistemi, in primis al computer della nave, affinché possa essere implementato anche in futuro le ablades. Ci saranno comunque delle novità nel breve termine. La merchantment sta subendo un'attenta fase di revisione del concept affinché il suo sviluppo avvenga senza troppi problemi. A livello di produzione, comunque, il team che ha lavorato sulla Karak, quindi non è attualmente a lavoro sulla merchantment, che appunto è di nuovo in forse concept per essere sistemata, ma questo team è stato diviso in due e ha lavoro attualmente su due navi differenti. La Mercury potrebbe arrivare con una versione embronale del trasporto informazioni, ma non ne sono sicuri. comunque sarebbe in caso soltanto un appunto una primissima abbozzata versione di quel gameplay lì. Stanno lavorando finalmente per risolvere i problemi della Ulsea, affinché possa essere rilasciata. I problemi sono molti, sono già stati elencati in passato, però ci stanno lavorando. Ci stanno lavorando attivamente per risolvere gran parte queste problematiche. quelle su cui non stanno lavorando ora, comunque, hanno il programma di lavorarci prossimamente. E dunque, mentre in passato dicevano, sì, ci sono questi problemi, ma in realtà non è che se stessero effettivamente lavorando per risolverli, perché le priorità erano alte, ora ci stanno lavorando. E questa è una buona notizia comunque per i possessori della Ul. Hanno ribadito che la QNPC sarà molto costosa a mantenere e rappresenterà una soluzione possibile, ma non preferibile. Il kit tuning per i thruster è ancora in programma, ma per ora vorrebbero fare una o più navi dove sia possibile scegliere tra più kit di thruster. Nella 3.10 arriveranno molte migliorie al sistema di volo. Non sono andati nel dettaglio, ma vedremo la vera alternativa all'over mode, con thruster meno efficienti in atmosfera. Verrà sistemata anche l'accelerazione e come si comporta la nave con il vento. in futuro spiegheranno per bene tutti i vari cambiamenti. Anche il combattimento tra navi cambierà molto, ci saranno forti modifiche per ridurre il combattimento ad alta velocità, ci saranno potenziamenti importanti alle torrette. Due torrette da Hammered hanno essuto 50 navi in 5 minuti, anche se controllate ovviamente queste navi dall'IA. Le torrette invece hanno controllate le persone ovviamente per testare i nuovi miglioramenti. Dovrebbero anche aver migliorato le armi fisse. La Redeemer è in produzione, le antenne e la protezione del cockpit della Carrack arriveranno, la protezione del cockpit sarà più a placche che a saracinesca. La Mercury ha subito modifiche per un problema con la metrica, ora è un po' più alta e probabilmente un po' più larga sotto, ma ora può portare il rover. Proprio per fare spazio al rover, perché con le modifiche ci stava entrando per poco, quindi hanno fatto ulteriori modifiche affinché ci entrasse. Beh, per fare spazio al rover hanno spostato i thrusters posteriori, o meglio, hanno rimosso i thrusters posteriori circolari e hanno messo dei thrusters sulle ali. Hanno specificato che comunque la velocità massima rimarrà la stessa. La Proler forse è un po' troppo forte attualmente, mentre sono piuttosto soddisfatti per la Wharton. Hanno in programma la produzione della Tarus. Richiese più risorse per essere realizzata rispetto alle varianti. Ed è per questo che fino ad ora è stata posticipata per forire invece altre navi. L'abbiamo visto più volte nella roadmap e più volte è stata spostata, poi perché hanno iniziato a lavorare invece su altre navi, perché tra la Tarus e una Proler, una Border Defender, quello che è, hanno sempre finito per preferire queste nuove navi, che ritengono più importanti da definire subito. La modularità per le navi cambierà da nave a nave, ci saranno navi poco personalizzabili, mentre altre molto personalizzabili. La zona cargo della Mustang verrà sistemata quando sistemeranno la ULSEE, visto che serve la stessa tecnologia. Vogliono rendere i veicoli di terra, i veicoli in realtà i Gravlev, come la Nox e la Dragonfly, più veloci. I serbatori saranno fisicamente presenti sulla nave in futuro. Il problema degli ascensori, delle navi, in primis quando vi sale un veicolo, è molto complesso. Vedranno risolvere un po' in futuro, vi basti sapere che in realtà è dovuto al fatto che nella nave ci può essere una sola griglia fisica. Questa griglia fisica non comprende l'ascensore, cioè nell'ascensore in sé non c'è una griglia fisica, perché appunto non può esserci più una griglia fisica nella nave. E questo è un problema enorme, è un problema enorme perché questo significa che è tutto basato sull'animazione e il sistema di collisioni, che però si comporta molto male quando ci sono due veicoli in movimento costante e quindi non riesce a capire bene l'engine cosa sta succedendo. Vedranno effettivamente cosa potrebbe essere una soluzione se riuscire a inserire finalmente una griglia fisica anche dentro l'ascensore, oppure decidere magari di usare un sistema alternativo insomma. Il problema del cargo della 890 Jump è un po' complesso da risolvere perché il sistema deve modificare due tipi diversi di zone cargo, naturalmente ne vede soltanto una, non è prioritario da risolvere ora per cui mi dispiace, forse sono dato una vanta jump, non avrete tutto il vostro cargo, non avrete tutto il vostro spazio cargo, almeno per un po'. Il focus è migliorare l'esperienza tra le navi attualmente e solo poi si dedicheranno a veicoli di terra. La Polaris, come la Merchantment, è di nuovo in revisione del concept, per essere sicuri dunque che la produzione vada per il meglio. E infine dal Q3 iniziano a lavorare sulla Retaliator per rendere possibile l'applicazione dei moduli, cosa che è un'ottima notizia per chi possiede una Retaliator, che ovviamente è una funzionalità che attualmente è mancante. E niente, qui è Marco Sass e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!